Lugo, alla 2 Stantanea Lissia con sportiva Masi, alla 3 Benziema a nuoto Livorno, alla 4 Ore Gaia a nuotatori Fornovo, alla 5 Cassani Francesca a centro nodo per successo, alla 6 Di Marco Greta all'esporto, forse al 7 Pernatto Gaia a sintesi, alla 9 Moravito Michel con sportiva Maranello e alla 10 Toni Viola a nuoto Piombino. Grazie a tutti 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 Grazie! 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 Bravo! Vieni! 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 Vai! Vieni! Aperto! La partenza per la serie numero 91 in corsia 1, Mancadatta e Sara, San Giuliano, alla 2 Ricci Alice, Deca Nuoto, Lugo, corsia 3 per De Maria Vittoria, Lisporta, alla 4 Fragassi Alice e Sebastopoli, corsia 5 Cavaliere Nicole, alla 6 Casi Agata, Regiona Nuoto, corsia 7 Fernane e Giulia, nuoto più un vino, alla 8 Guidotti Arianna Wisp, Imola. A seguire due a piede del centro moto per Siceto, in corsia 9 Vacchi Beatrice, e alla 10 Pertocchi Giulia. Era... No, no, no Orreggio 4 in corsia 2, un giro con loco per Siceto, I Bolo, 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.